Si tratta del primo movimento fan europeo, in Italia siamo diventati un partito lo scorso luglio e ad oggi contiamo all'incirca 3.000 volontari attivi sul territorio in più di 50 città italiane. Perché giovani? Giovani perché abbiamo conosciuto l'Europa e vogliamo riportarla all'interno del nostro territorio partendo da Bruxelles fino ad arrivare alla piccola città di Isernia. Energia per ricreare un'Europa che sarà più forte, più unita, più solidale e più democratica. Noi di volte vogliamo un'Europa più democratica, più sicura e più equa. Noi di volte vogliamo un'Europa che dia più spazio alle opportunità, alla crescita e al lavoro. Noi di volte vogliamo un'Europa che promuove i nostri diritti e che veda nella sostenibilità un'opportunità. E puntiamo a lanciare una grossa raccolta firme a febbraio per partecipare alle elezioni europee in Italia come in tutti gli altri paesi dell'Unione.